Gli eventi più importanti di questo 2012 saranno senz'altro, oltre alle mostre che terremo al Museo di Storia Naturale che riguarderanno i pesci tropicali, saranno senz'altro le mostre di fotografia, una dedicata a Italo Zanir in occasione del compimento del suo ottantesimo compleanno che si chiama appunto la sfida della fotografia, cioè è un'esposizione del suo archivio personale delle foto più significative, non solo foto sue ma soprattutto foto che ha avuto in dono, acquistato da importanti artisti di tutto il mondo e che costituiranno una carellata sulla storia della fotografia di cui Zanir è indubbiamente un maestro di tutto il Novecento. L'altra mostra importante che si darà sempre agli spazi espositivi di via Bertossi a livello di mostra fotografica è la mostra della foto della ex Jugoslavia, una collettiva di fotografi oltre frontiera che accumula per la prima volta tutti i rappresentanti delle repubbliche della ex Jugoslavia. Quindi questa mostra oltre ad essere importante da un punto di vista artistico su un significato simbolico molto elevato perché come dicevo costituisce un elemento a una valenza che va al di là appunto di quella artistica e parla appunto di dialogo, come la cultura può diventare un elemento di dialogo e di unione anziché quello che sono state le lacerazioni e le divisioni di un recente passato di queste persone. Altro importante avvenimento sarà la grande mostra dedicata a Nane Zavagno. A settembre si inaugurerà al Parco 1 e questa mostra diciamo ci presenterà oltre alle opere che conosciamo di Zavagno scultore, mosaicista, ci presenterà le opere di Zavagno pittore e disegnatore. Quindi sono nella maggior parte opere inedite che costituiranno appunto la parte di interesse primario di un grande artista del nostro territorio. Sì, l'obiettivo nostro è quello di fare concretamente rete e sotto questo profilo ci stiamo muovendo in due direzioni, sia da un punto di vista diciamo locale, cittadino, cercando di intessere un dialogo con le principali associazioni, con i principali organizzatori e promotori di eventi a livello cittadino. Qui va ricordato il tavolo della cultura che è stato convocato e che convocheremo nuovamente tra poco e poi le collaborazioni che si sono attivate con le realtà museali sia della regione nostra e parlo soprattutto per l'arte contemporanea, la Galleria Spazzapani, il Museo di Gorizia e il Revoltella di Trieste che con altre importanti in realtà diciamo esterne alla nostra regione come il Museo di Roma per esempio.